Essere insieme, essere uno accanto all'altro per vedere con più chiarezza, per capire con più precisione. Essere insieme per scoprire nuove strade e nuovi percorsi. Essere insieme per camminare, correre, andare avanti. Essere insieme per raggiungere grazie al nostro sapere, alla nostra esperienza, al nostro lavoro. Nuovi e più importanti risultati. Insieme per migliorare la qualità della vita. Della vita di tutti. Grazie a tutti.